Sorridete! Oggi è il vostro giorno fortunato. Oggi avete trovato me, che sono un quadrifoglio. Pensate che uno come me ne nasce solamente uno ogni 10.000 trifogli. Per questo in tutte le culture del mondo trovare un quadrifoglio viene considerato un gran colpo di fortuna. Io sono una rarità. Ma se essere rari non fosse una fortuna? Se ad essere rara fosse una malattia. O peggio, una persona malata. Anche per le malattie rare esiste la stessa identica proporzione del quadrifoglio nel campo dei trifogli. Cioè si definisce persona malata di una malattia rara quando ne affetta una sola persona ogni 10.000 nate sane. E allora? Chi potrebbe mai pensare a delle persone così rare? Chi potrebbe investire tempo, soldi, ricerca? Per fortuna qualcuno c'è. Sono ricercatori, scienziati, che ispirano il loro lavoro a quello di una scienziata del passato, neanche troppo lontano. Rita Levi Montalcini. La Montalcini scoprì diversi anni fa una proteina che si chiama NGF. È una proteina in grado di curare delle malattie rare. La Montalcini amava dire che non aveva vissuto la sua vita come una scienziata, ma come un artista. E allora oggi, come un artista, vi racconto come facciamo NGF. NGF è una proteina ricombinante, cioè una proteina umana ma prodotta da un batterio. Per produrla usiamo dei sistemi simili a questi. Lei si chiama Beuta e al suo interno ha il giusto nutrimento, la giusta reazione e il giusto movimento che permettono ai batteri di crescere in un numero di cellule sempre più elevato per avere la maggior quantità di proteina possibile. Ma il nostro viaggio è solo all'inizio. Infatti la proteina si trova all'interno della cellula e quindi dobbiamo separarla. Per fare questo ci viene in aiuto una forza fisica che si chiama forza centrifuga e lo strumento che la utilizza è una centrifuga. Beh, questa è una trottola ma ha esattamente il stesso principio, cioè gli oggetti più pesanti ma in questo caso le cellule rimangono intrappolati mentre tutto il resto può essere eliminato. A questo punto però dobbiamo rompere le cellule perché per rompere le cellule è l'unico modo per estrarre la proteina e per fare questo usiamo un'altra forza fisica che si chiama forza meccanica e che può essere simile a questo martello che ti 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 rompe le cellule e così tutto il materiale fuoriesce. Tutto il materiale compresa la nostra proteina ma anche tante altre impurità, altre proteine. Ed eccoci all'ultimo step, la cromatografia che ci permette di separare tutto quello che non ci serve da quello che ci serve. Questi pallini arancioni rappresentano tutte le proteine della cellula e le altre impurità mentre nella mia mano ecco i pallini bianchi, cioè NGF, cioè la proteina che ci interessa. La cromatografia funziona così, tutto quello che non ci interessa passa, mentre la proteina di interesse viene ligata, cioè viene bloccata. Ora ho NGF nelle mie mani, ora con NGF posso guarire, posso diventare un trifoglio, posso staccare questa foglia e adesso posso essere una persona normale e la fortuna, signori, la lascio tutta a voi. Grazie.